L'innovazione è stata importantissima. Per la prima volta abbiamo fatto da un lato un censimento virtuale, nel senso che abbiamo fatto riferimento ai registri per avere informazioni sulle imprese senza disturbarle un po' troppo. Abbiamo diminuito quindi molto il disturbo statistico e dall'altro però abbiamo anche fatto un'indagine chiedendo alle imprese i punti di forza, i punti di debolezza, i comportamenti e questo fa sì che oggi abbiamo un'informazione assai ricca da dare sia alle imprese stesse sia alle autorità politiche per una migliore istruttoria dei comportamenti e delle azioni da fare. Davvero mi pare un contributo rilevantissimo.